Tra gli altri premi c'è questo girogollo di trillanti Questo è il premio che andrà al vincitore Il premio per il primo classificato Vogliamo chiamare una donna? Vuoi provare tu? Se non ci riusciamo lo forsevamo solo Allora ci siamo Vince La prima edizione Il microfono mi abbandona proprio in questi momenti Il più bello di Stabia Con il copice Con il codice, con il codice Chi deve riuscirà? C'è la scelta 26, dando la scelta Costa! Franco! 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 Grazie!